Vogliamo farvi conoscere i nostri candidati al Consiglio Comunale, una squadra molto variegata, molto ampia, che rispetta il tessuto sociale della nostra città. Oggi abbiamo con noi la signora Paola Domicelli. Rappresenta le persone, io dico diversamente giovani, perché parlare di anziani significherebbe davvero svilire invece quelle persone che hanno dato tanto alla società e vogliono ancora dare tanto. In genere alle donne non si chiede l'età e non si dice l'età, non so se possiamo dirla. Io non ho nessun problema ad ammettere di avere compiuto 81 anni e di avere largamente onorato le esperienze umane che la vita mi ha dato l'opportunità di mettere in atto. Sono stata mamma, moglie e nonna, felicemente nonna, e sono entrata con orgoglio nella terza età. Avendo portato a termine i compiti istituzionali che la vita mi ha dato da svolgere, ho deciso di accettare l'invito di Luigi, che conosco da Una Vita, per la sua limpidezza morale, per la quale è giusto offrire là dove c'è la volontà e il tempo utile, un aiuto, un apporto, una disponibilità per una città che merita come Taranto di avere molto, ma molto di più. Io conosco Paola da oltre 30 anni, con il figliolo cristiano, abbiamo studiato insieme, abbiamo frequentato insieme il liceo Archite, eravamo compagni di classe e la ricordo come appunto rappresentante di classe dei genitori, una persona sempre attiva, combattiva. Poi una sera è capitato di incontrarci per caso in un bar, era ancora prima della pandemia, ci siamo fatti una chiacchierata, nel momento in cui ho deciso di presentare la lista e di presentarmi sindaco, ho detto beh, questa persona così forte, così determinata deve fare parte della nostra squadra, del nostro team. Paola poteva dire ho 81 anni, mi godo la vita, mi rilasso, invece ha detto no, io voglio dare un mio contributo, voglio lasciare un segno soprattutto per le nuove generazioni. Ma è indispensabile che soprattutto le donne sentano forte l'impegno di trasmettere le esperienze umane che hanno accumulato nell'arco della vita. Ora, ritirarsi in un ambito molto privato significa chiudere se stessi e gli altri a quello che è il rispiro della vita, che comunque merita di essere vissuto, sempre. Andiamo ai programmi, andiamo a vedere Taranto. Taranto vive un momento di, vive da anni, da decenni, una situazione di difficoltà. Ora, proprio negli ultimi anni con questa amministrazione Melucci c'è stato il crollo, una città in pieno degrado, ma anche una città che deve puntare su queste due direttrici assolutamente alternative che devono sostituire quel mostro industriale chiamato Exilva. E quindi le due direttrici, il turismo e quindi lo sfruttamento delle risorse naturali e la cultura. Sai, Taranto ha bisogno innanzitutto di riprendere in mano se stessa perché ha annullato completamente quella che era la sua naturale vocazione, il mare, il turismo, il piacere dell'orgoglio dell'appartenenza ad una città bella come Taranto che merita sicuramente di più, ma merita anche una spinta emozionale più forte. Non si può assistere a determinate situazioni che ora non è il caso di citare, ma che sono sotto gli occhi di tutti, lasciando che la città muoia. C'è bisogno di sentire forte il desiderio di una ripresa che non è solo individuale, ma deve essere collettiva. Tutti dobbiamo partecipare se sentiamo questo onere, altrimenti la città finirà per diventare ancora una volta figlia di quel mostro che ha distrutto proprio il tessuto sociale per il quale Taranto viveva una sua identità marinara che la identificava al meglio. E quando parliamo di mare, il riferimento alla nautica è un tema che ti sta molto a cuore anche perché Cristiano, tuo figlio, mio compagno di liceo, è vissuto a pane e mare, tra virgolette. Io l'ho seguito molto. Nel settore velico in modo particolare. Ho fatto tante regate e io sono stata compagna della comunità perché condividere il mare significa accettare il respiro della vita, credetemi. Oltretutto fare scuola di vela significa imparare a rispettare il mare perché è un severo elemento che ti punisce se non lo sai rispettare al meglio. Ti dà molto, ti dà moltissimo. Però Taranto non ha un circolo velico. Il lungomare dovrebbe essere una proiezione anche per le signore che vogliono fare un po' di vela, un po' di canotaggio, un punto di riferimento. Ma perché? Perché questo silenzio tombale? Ditemelo per favore. C'è bisogno davvero, Luigi, che si senta l'impegno di frequentare il mare per il piacere proprio di viverlo? Io sono contentissimo di aver candidato Paola e che lei ovviamente abbia accettato l'invito. Ma vedere una persona così attiva, così preparata, così colta, con un bagaglio di esperienza di vita, con una carica morale di cui c'è bisogno in questa città. Perché purtroppo assistiamo a candidature, a soggetti tutt'altro che raccomandabili, che ambiscono a ricoprire cariche pubbliche. C'è bisogno di una ventata, o se ne dire, di uno tsunami di moralità. Sai, Luigi, arrivata a questa età, sarebbe una pura follia se io dimenticassi la necessità di vivere la mia esperienza umana pensando a fare della politica, tra virgolette, un elemento futuro. Un mestiere. Un mestiere, una proiezione futura. Quello che io ho deciso, grazie al tuo invito e al tuo affetto, è quello di mettere a disposizione la mia esperienza umana e il tempo che sarà necessario. Disponete di me per quello che vi posso dare, senza nessun'altra situazione, come dire, che possa in qualche modo giustificare o pensare di avere altri interessi in questo ambito. Non ne parliamo proprio giusto. Bene, e allora ringraziamo Paola, ci congediamo qui con l'augurio di vederci in Consiglio Comune. Grazie, grazie sempre per l'opportunità che mi avete dato e spero di esservi utili. Tutto qua. C'è una Taranto migliore, la stiamo costruendo insieme. Sarà un piacere viverla e vedere crescere dal niente qualche esperienza in più che la renda meritevole di essere citata per una città che ha una vocazione marinara ad altissimo potenziale, davvero. Buona giornata a voi, eh? Grazie. Grazie. Grazie.